Musica Mario Cercello Rega, carabiniere eroe, molto dolore ma anche tanta rabbia, Somma Vesuviana per la morte del militare ucciso a Roma mentre sventava un furto. Zona Asi, impianto rifiuti sequestrato, i carabinieri del Noe di Napoli hanno dato esecuzioni a Benevento ad un approvvenimento di sequestro preventivo. Pozzi contaminati, incontro in prefettura, riunione in attesa della conferenza dei servizi, entro il 30 luglio a Benevento la ditta dovrà completare il piano di caratterizzazione. Picchia 92enne, arrestato badante, l'anziano sanita ha denunciato i maltrattamenti, divieto di avvicinamento per una 49enne di Molinara. Sant'Anna, tradizione e fede, solenni festeggiamenti hanno c'era inferiore. Nuova edizione del Media News, ben ritrovati, lo abbiamo appena sentito dai nostri titoli. Mario Cercello Rega, vicebrigadiere di 35 anni di Somma Vesuviana, è stato ucciso a Roma mentre sventava un furto. Si era sposato lo scorso 13 giugno nel servizio. Nella sua nuda essenza anche la tragedia più grande è fatta di numeri. Il vicebrigadiere Mario Cercello Rega aveva 35 anni, era sposato da 43 giorni e 13 ne erano passati dal suo ultimo compleanno. È morto a Roma per otto coltellate e inferte per i 100 euro che i due autori di un furto pretendevano in cambio della restituzione di un borsello rubato. In gergo si chiama cavallo di ritorno, è quanto si legge in un post sul profilo Facebook dei carabinieri. Ma quei numeri non sono freddi, prosegue la nota, sono il conto di un'esistenza consacrata agli altri e al dovere, di una dedizione incondizionata e coraggiosa, di un amore pieno di speranze e di promesse. E la tragedia reca la cifra più alta, l'infinito, il più vivo dolore per una mancanza che affligge 110.000 carabinieri, il più vivo cordoglio ai suoi cari che stringiamo in un immenso unico abbraccio. Non solo l'arma, anche Somma Vesuviana piange il suo concittadino Mario Cercello Rega. La notizia del suo assassino rimbalza sulle pagine social di tutta Italia, che si stringe alla moglie Rosa Maria e alla famiglia. Cercello aveva frequentato la scuola superiore al Maglio Rossi Doria di Marigliano. Aveva da poco ripreso a lavorare dopo il suo viaggio di nozze. Era un grande tifoso del Napoli, su Facebook aveva postato recentemente una foto della maglia di insignia. Quattro anni fa aveva ricevuto anche un encomio per aver accompagnato una bambina in difficoltà all'ospedale Bambin Gesù di Roma. È morto in servizio questa notte alle tre. Appena avuta la notizia, il comandante generale dell'arma dei carabinieri, generale Giovanni Nistri, ha voluto incontrare i familiari per esprimere loro cordoglio e vicinanza. È distrutto dalla notizia Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana. Proclameremo, dichiara, il lutto cittadino. Un uomo di 49 anni di Molinara in provincia di Benevento ha ricevuto il divieto di avvicinamento ad un 92enne che prima accudiva come badante. L'anziano ha trovato il coraggio di denunciare l'ex badante, appunto, il cui atteggiamento violento è stato anche documentato dalle telecamere. Un uomo di 49 anni, originario di Molinara, piccolo centro della provincia di Benevento, ha ricevuto dai carabinieri il divieto di avvicinarsi ad un anziano di 92 anni che accudiva in qualità di badante. L'uomo aveva conquistato la fiducia dell'anziano dalla salute cagionevole in quanto cardiopatico. Il 92enne, con un atto notarile, aveva concesso al 49enne l'amministrazione di tutti i suoi conti correnti e l'utilizzo della sua abitazione in nuda proprietà. Col tempo, però, l'atteggiamento del badante nei confronti dell'anziano si era fatto violento. Il 92enne si era recato dai carabinieri per denunciare le reiterate percosse e i continui maltrattamenti subiti dal 49enne. Le indagini dei carabinieri di San Marco dei Cavoti e di San Bartolomeo in Galdo, coordinate dalla procura di Benevento, hanno consentito di accertare, anche grazie alle immagini di telecamere nascoste, come il 49enne effettivamente maltrattasse l'anziano. Il 92enne era stato costretto a trasferirsi da un parente per evitare di restare in balia del 49enne, che di fatto si considerava il proprietario dell'appartamento dell'anziano. Quando l'anziano si era recato a casa sua per prendere alcuni vestiti, era stato subito raggiunto dall'ormai ex badante che lo aveva nuovamente aggredito e gli aveva detto chiaramente di non avvicinarsi a quella che ormai considerava la sua abitazione. Dopo quest'ultima aggrazione è scattato l'intervento dei carabinieri che hanno notificato al 49enne il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dal 92enne. L'anziano potrà così tornare dalla sua vita precedente e soprattutto tornare a beneficiare di quella tranquillità necessaria al suo stato di salute. Un'organizzazione con base a Napoli e provincia e ramificazioni nel Bresciano dedita alla ricettazione di beni di rilevanza storico-artistica rubati in Italia e commercializzati anche tramite antiquari calabresi o esportati illecitamente. Il servizio Scoperta banda di ricettatori internazionali d'opere d'arte al termine di una complessa indagine sono state eseguite quattro ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di altrettante persone indagate in tutto 20 persone con perquisizioni avvenute a Napoli Torre del Greco, Arzano, Melito, Sant'Antonio Abbate nonché a Reggio Calabria, Brescia, Catania, Catrezzato, Isola del Liri e Grana. Tutto è partito nel novembre del 2015 a seguito di un controllo presso un esercizio commerciale d'antiquariato di Reggio Calabria. È stata anche utilizzata la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti gestita dal comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. È emerso che il pericoloso sodalizio criminale, così come viene definito dalla procura regina con base a Napoli e provincia e con ramificazione nel Bresciano Era dedito alla ricettazione di beni antiquariali rubati in tutta Italia e venduti anche attraverso antiquari calabresi oppure esportati lecitamente in fiere del settore in Francia. Si trattava di dipinti, sculture in bronzo e marmo, arredo antico e di pregio su pellettili, oggetti provenienti da chiese, nonché da abitazioni private e dirubate. Molte sono state recuperate, alcune delle quali anche di rilevante importanza. Tra quanto recuperato emerge per importanza un dipinto, oli su tela della Settecento, raffigurante Madonna con Bambino, di scuola napoletana. Questo trafugato nel 2014 da un palazzo in provincia di Ancona. Il valore economico di tutti i beni sequestrati è stato stimato in circa un miliardo e mezzo di euro. Nella zona Asi di Benevento un impianto di rifiuti è stato sequestrato e i carabinieri del Noe di Napoli hanno dato esecuzione appunto nel capoluogo ad un provvedimento di sequestro preventivo. Sequestrato impianto di stoccaggio di rifiuti nell'area Asi di Benevento. I carabinieri del Noe di Napoli hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento su richiesta dei magistrati della Procura Locale di un impianto di messa in riserva, stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nella zona Asi del capoluogo in località Ponte Valentino, gestito da una società il cui rappresentante legale è gravemente indiziato per inosservanza alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione integrata ambientale e per emissioni di esalazioni maleodoranti. Il provvedimento di sequestro è scaturito dalle risultanze degli accessi ispettivi effettuati dal personale del Noe unitamente al personale Arpac e della stazione forestale di Benevento nella zona Asi alla località Ponte Valentino a seguito delle continue segnalazioni dei cittadini per la presenza di esalazioni maleodoranti provenienti dalla zona. Gli accertamenti effettuati hanno consentito di verificare la ripetuta violazione dei valori limite di emissione e la cattiva gestione dei rifiuti in ragione di carenze strutturali gestionali dell'impianto rendendo necessario il sequestro dell'intero impianto industriale con facoltà d'uso ai soli fini di ottemperare alle prescrizioni imposte nel termine di giorni 60 ovvero al solo fine di conformare l'impianto alle prescrizioni imposte dall'Arpac e dalla regione Campania e di adottare ogni altra misura edonia e riportare l'impianto a norma di legge con particolare riguardo alle inadempienze ed irregolarità di cui al provvedimento di sequestro. Pozzi di pezza piana e campo mazzone contaminati si arricchisce a Benevento di un nuovo capitolo la vicenda dopo le analisi preliminali effettuate dalla ditta che ha confermato un preoccupante innalzamento dei parametri limite nei campioni di acque sotterranee si attende infatti la redazione e la successiva approvazione tramite conferenza dei servizi del piano che servirà alla caratterizzazione dell'inquinante dei successivi interventi da effettuare sui Pozzi intanto incontro in Prefettura. Questa riunione di oggi è nata sul prosieguo di quelle già effettuate e dobbiamo ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto che ha riunito in modo curale gli enti intorno a un tavolo affinché tutto fosse più veloce e proficuo rispetto alla risoluzione del problema. Non è un problema di facile risoluzione però stiamo in una fase di avanzamento delle attività che è meritoria. Il Comune ha prodotto una prima fase progettuale che è quella delle indagini preliminari a cui in effetti seguirà la valutazione del piano di caratterizzazione a cui poi in effetti con tutto lo snocciolamento che è tipico della procedura quindi si andrà in conferenza dei servizi e si arriva all'analisi di rischio che cercherà di mettere una parola fine a quella che è il livello di contaminazione e quindi poi all'eventuale attività di bonifica. In questo momento è stata fatta una valutazione dei primi dati inviati dal Comune e sono ad opera del Dottor Imazza che è il tecnico che il Comune ha incaricato per questa attività. Noi lo riteniamo un ottimo piano abbiamo fatto soltanto delle precisazioni sulla profondità degli attingimenti dei bisometri è in una fase intermedia lo step perché serviranno altre attività di campionamenti dell'acquifero e poi dei terreni per aggiungere poi all'analisi di rischio che sarà poi condivisa con l'ASL e che sarà poi in effetti parte integrante di quello che sarà il parere per finale che poi porterà alla valutazione delle scelte operative per la bonifica. Incidente nel pomeriggio al chilometro 61 della strada statale 372 Telesina scontrarsi subito dopo il bivio per Campobasso sono stati un furgoncino Peugeot Bipper ed una Renault Megane. Ad avere la peggio è stato il conducente del furgone che dopo l'impatto si è ribaltato. Si tratta di un ragazzo di 25 anni che fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e il personale del 118. La candidatura della Via Appia a patrimonio UNESCO l'impegno del Comune di Benevento ma anche le criticità che non sono state affrontate. Sono stati questi i temi al centro dell'incontro Antica Via Appia e il suo riconoscimento UNESCO prospettive sui beni culturali e realtà locale che si è svolto nel pomeriggio a Palazzo Mosti diverse associazioni ambientaliste presenti. Innanzitutto una nota positiva al Comune di Benevento che ha deciso con una sua delibera di candidarsi a capofila di altri enti locali per portare avanti la candidatura UNESCO della Via Appia. Cosa doverosa perché oramai la candidatura è stata avanzata dal 2006 e quindi buona mossa a Fatecone ma c'è qualche criticità a fianco anche a un'altra nota positiva che è bene dirlo che il Comune si è anche attrezzato di un proprio ufficio presso l'assessorato alla cultura infatti l'ha chiamato assessorato alla cultura e all'UNESCO quindi altra nota positiva. Dicevo ma c'è una qualche criticità perché noi ambientalisti abbiamo più volte sottolineato che la città di Benevento ha bisogno del suo sistema di depurazione ma dove questo viene installato non è indifferente perché è previsto che ci siano tre depuratori di cui uno proprio a Santa Clementina Santa Clementina è il luogo dove la via Appia entrava in città pertanto riteniamo che l'amministrazione comunale prima di consegnare le carte al commissario Rolle doveva ascoltarci cioè doveva prendere atto delle cose che dicevamo e gli abbiamo detto chiaramente che quel sito non andava bene assolutamente pertanto adesso faremo anche noi le nostre riflessioni ma faremo anche noi i nostri passi sicuramente descriveremo anche noi a Rolle per dire le nostre ragioni a fianco alla valorizzazione attraverso il riconoscimento unesco dell'Appia sicuramente questa cosa dovrà trascinarsi le altre ricchezze di cui gode la città della stessa epoca cioè dell'epoca romana ed è nel sito del Ponte teleproso dove la strada entrava in città ma giusto lì vicino c'è ci sono i resti dell'anfiteatro di Benevento e non lontano da lì i Santi 40 ma ci leggiamo sulla torta c'è il parco Cellarulo che è anche un sito archeologico e che se si può dire che ha subito traversie infinite è dir poco pertanto andrebbe messo mano anche lì noi ci siamo proposti per essere affidatari per dare una mano a risolvere questa questione che veramente sta diventando annosa veramente annosa è morto il papà del baby dinosauro Ciro Giovanni Todesco l'appassionato di geopaleontologia che nel 1980 a Pietraroia aveva scoperto l'unico fossile di cucciolo di dinosauro al mondo nonché il più conservato lo rende noto l'ente geopaleontologico di Pietraroia istituito dai ministeri dell'ambiente e dei beni culturali Todesco si è spinto all'età di 72 anni nella sua casa a San Giovanni Ilarione in provincia di Verona sono sinceramente commosso per la scomparsa del caro Todesco ho fatto di tutto con la totale condivisione del sindaco di Pietraroia Angelo Torrillo per tributare a Todesco il giusto riconoscimento per l'importante scoperta scientifica da lui fatta osserva Gennaro Santamaria presidente dell'ente se il sito geopaleontologico di Pietraroia ha raggiunto una riconoscibilità mondiale aggiunge lo si deve anche alla sua scoperta così come a lui si deve la nascita dell'ente per tanti anni però è mancato un vero e proprio riconoscimento da parte delle autorità e questo è avvenuto nel febbraio scorso quando l'uomo è stato premiato a Benevento dal ministro dell'ambiente Sergio Costa in occasione della celebrazione del primo anno di attività dell'ente geopaleontologico a Nocera è inferiore mercato ortofrutticolo in protesta le motivazioni del dissenso nel servizio sentiamo minacciano di incrociare le braccia si oppongono alla gestione della struttura e c'è chi chiede le dimissioni del commissario liquidatore protesta nella notte degli addetti alla vigilanza dei facchini e dei guardiani del mercato ortofrutticolo di Nocera Pagani a scongiurare lo sciopero il sindaco di Pagani Alberico Gambino che mediando ha evitato che i quintali di merce restassero sui camion rischiando di marcire visto le alte temperature lo stato di agitazione però continua io in qualità di partito di maggioranza già all'interno del nostro programma elettorale abbiamo ben specificato che la gestione di liquidazione deve evolgere in tempi velocissimi al termine deve evolgere al termine perché ci deve essere ci dovrà essere una nuova gestione affidata agli operatori dove la politica resta fuori e la nuova gestione deve essere affidata tutta agli operatori del mercato per cui io chiedo al liquidatore di non commettere più tutti questi enormi errori che stanno portando alla debacle il mercato fortunatamente abbiamo scongiurato lo sciopero dando l'opportunità agli operatori che nel frattempo dovevano scaricare centinaia e centinaia di migliaia di euro di merce merce anche deperibile perché soprattutto in estate può capire che è merce che poi deve essere venduta anche in maniera molto celere quindi il succo è questo la liquidazione deve terminare questo lo dicono il comune di Pagani il comune di Nocera il comune di Corbar lo dice il mercato intero adesso aspettiamo la risposta del dottore Apa che a mio avviso oggi stesso dovrebbe dare le dimissioni Sant'Anna devozione e fede dei cittadini di Nocera inferiore festa grande in onore della madre di Maria Vergine sentiamo la preghiera a Sant'Anna vive il suo culmine nel giorno della sua festa che a Nocera inferiore nel monastero dominicano dedicato alla madre di Maria ha una grandissima intensità grazie anche alla presenza orante delle monache dominicane che accolgono non solo del giorno della festa le tantissime e i tantissimi devoti a Sant'Anna è un'antichissima tradizione che è legata al nostro monastero è un qualche cosa che diciamo ha il suo culmine nel giorno proprio della festa di Sant'Anna ma trova il suo fondamento da sempre ma è un continuo anche durante l'anno c'è la benedizione dei bambini appena nati c'è questa tradizione legata a Sant'Anna e quindi al nostro monastero appena usciti dall'ospedale dopo il parto prima di ritornare a casa vengono portati qui capita delle volte che vengono anche donne che è il secondo e il terzo figlio e ancora una volta portano i loro bambini a benedire Sant'Anna arriva anche un messaggio in particolare per i nonni Sant'Anna senza dubbio ha avuto un ruolo importantissimo per Gesù in quanto uomo in quanto un bambino nella sua crescita come l'ha avuto Sant'Anna anche per la stessa Maria allora bisogna riscoprire questa forza questa potenzialità che solo i nonni hanno nella formazione nell'educazione dei bambini che è diversa da quella dei genitori ha un suo proprio una sua peculiarità e oggi credo più che mai è importante mettere in evidenza queste doti che hanno i nonni è bello che assumano oggi come oggi questo ruolo questa figura nell'educazione dei propri nipoti introdurli alla vita quotidiana ma con una dimensione spirituale che è quella cristiana quindi affrontare anche le cose più piccole nell'ottica di Dio nell'attuare di cercare di attuare il suo progetto di vita per ognuno di noi e siamo alla pagina sportiva calcio serie A il Napoli è pronto alla stagione 2019-2020 come ogni anno festa di presentazione in piazza a Di Maro sede del ritiro della squadra azzurra tra i più carichi Carlo Ancellotti che ha incitato la squadra a cantare esordato innamorato all'evento anche il vicepresidente Edoardo De Laurentiis 30 gradi al mattino grandine e freddo invernale nel pomeriggio il benavento calcio serie B comunica che causa maltempo il test amichevole contro il Venezia è stato annullato una partita a cui teneva molto mister Rinzaghi non solo per la sua vecchia militanza tra i lagunari ma anche perché gli ultimi due testi in ritiro sono altamente allenanti essendo gli avversari appartenenti alla stessa serie dei giallorossi Sidi Cassiavellino calcio gli avvocati di De Cesare fanno il punto sono quattro le manifestazioni ufficiali arrivate da potenziali acquirenti la novità è un gruppo di imprenditori romani che ha messo sul piatto una ricapitalizzazione da 2,5 milioni di euro si va verso una procedura di competitività De Cesare intanto si tira indietro è Luppa il nuovo amministratore delegato ed era questa l'ultima notizia vi lascio ora in compagnia delle previsioni del tempo e con il resto dei nostri programmi grazie dell'attenzione arrivederci grazie a tutti Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento elaborato da ilmeteo.it. Previsioni per sabato 27 luglio. Tempo in peggioramento al nord a causa dell'avvicinamento di un ciclone di origine atlantica, ancora prevalentemente soleggiato invece sulle regioni centro-meridionali. Ma ecco il dettaglio realizzato come sempre da ilmeteo.it. Al nord, atmosfera via via più instabile, con precipitazioni temporalesche che dai settori montuosi potranno scendere a carattere sparso fin verso la pianura padana a nord del Po, tempo più soleggiato altrove. Spostiamoci ora al centro dove la presenza dell'alta pressione garantirà una giornata prevalentemente soleggiata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Raggiungiamo infine il sud dove avremo ancora generali condizioni di bel tempo con cielo pressoché sereno, da segnalare solamente qualche foschia mattutina lungo le aree costiere della Campania. I venti soffriranno principalmente dai quadranti meridionali. Concludiamo dando uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori toccheranno punte minime di 17 gradi e non supereranno i 25 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo invece fino a 34 gradi sia al nord sia al centro e punte di 38 gradi sulle regioni meridionali. Grazie!